Mi diamo un prego del rigo, vengo dall'Istituto Carducci, sezione prima, e ho scritto una lettera a Babbo Natale su un miaggio di gentilezza. Caro Babbo Natale, la parola gentilezza deriva dal latino gens gentis e significa famiglia, una parola a me molto cara. I miei genitori hanno insegnato a me e a mia sorella a essere gentili ed educati nei confronti di tutti. La parola gentilezza costituisce il segreto per ristaurare relazioni autentiche e solide con le persone intorno a noi. Questa parolina mi impone tanta serenità, soprattutto quando sono io stesso a fare qualcosa per qualcuno. Mi è capitato in più di un'occasione di aiutare i miei amici in difficoltà a volte per un compito, a volte nello sport. Mi viene naturale essere gentile, è come se fosse parte di me. Subito dopo mi sento felice. Non ricordo un episodio in particolare, ma credo di essere gentile ogni volta che qualcuno ha bisogno di me, semplicemente per un sorriso in un momento un po' triste. Questo weekend ho assistito a un atto di gentilezza tra due sindaci, di Gaete e di Fontignano. Hanno firmato un patto d'amicizia nato anni fa. Mi ha aperto il cuore e insegnato che gentilezza si può anche per il bene di una comunità, non solo di singole persone. In questa occasione mi è capitato anche di ballare con una persona anziana, perché ho capito che aveva bisogno di compagnia. Mi ha fatto un enorme piacere il suo grande sorriso, quando mi ha detto grazie. Ecco, per me gentilezza è questo. Grazie Enrico, e confermo che da quei genitori gentili non poteva rinascere un bambino gentile, insomma. Grazie. E' anche una mano gentile che non si sente.